Tra le conferme di quest'anno al San Salvo c'è Giuliano Felice che era vicino a Cupello e Termoli ma alla fine ha scelto di restare qui in bianca azzurro. Perché? Praticamente è vero, ero vicino al Termoli, al Cupello, ad altre squadre, però poi con la volontà mia e la volontà soprattutto della società abbiamo trovato un punto di incontro. Alla fine San Salvo per me è San Salvo e quindi niente. Poi quest'anno sono onorato di essere diventato praticamente il Capitano e saluto il mio grande amico Bomber Vito Marinelli che è andato alla pastese. E niente che dire, quest'anno sarà un'annata sappiamo molto difficile, siamo una squadra molto giovane però daremo il massimo soprattutto per levare soddisfazione ai nostri tifosi, alla nostra società e per levarci qualche sassolino dalla scarpa anche noi che siamo rimasti. E niente che dire, praticamente per me San Salvo è tutto quindi ho fatto la scelta per me più giusta penso. Tra tutti quelli che sono partiti e andati via, il 7-11, dicevo prima Evanio, qual è quello che ti mancherà di più in campo? Come ho già detto il mio amico Vito Marinelli, mi mancherà. Con lui abbiamo un rapporto di vita anche fuori dal campo quindi giocare senza di lui è veramente difficile. Però la società ha trovato ragazzi che hanno voglia, che lo rimpiazzeranno e che metteranno il massimo in campo, come faceva lui.